I fratelli Aquilani Tito e Silvio Totani sono gli eroi del giorno. Il loro nome è rimbalzato sulle tv e sulle cronache di tutto il mondo per il salvataggio di un equipaggio olandese, il cui camion si era ribaltato in una fase della Dakar 2024 alla quale i due piloti stanno partecipando. Un'autentica impresa al buio della notte con il camion che era finito in una fosse enorme in mezzo alle dune del deserto arabico. Una straordinaria manovra ripresa da un telefonino con il video che in qualche ora ha fatto il giro del web mentre i Totani a causa di un problema radiatore riprenderanno la corsa domenica per avere il tempo di riparare la loro vettura trattandosi di una tappa a marathon di due giorni infatti senza alcun tipo di assistenza avrebbero rischiato di non proseguire la gara. L'equipaggio dei fratelli Totani, non nuovi alla Dakar, è uno dei pochissimi equipaggi italiani iscritti alla categoria T1 quattro ruote motrici con la loro Nissan Patrol. Dopo due anni dall'ultima volta il team Aquilano è tornato a gareggiare nella più celebre gara di automobilismo e motociclismo in Arabia Saudita in corso dal 5 gennaio e sino al 19. È la quinta partecipazione a rally, due in assistenza e tre in gara. Nel 2012 furono gli unici italiani a tagliare il traguardo di una gara complessa che li vide affrontare i picchiandini del Cile sino alle spiagge oceaniche del Peru, passando per i deserti dell'Argentina. Nell'ultima partecipazione invece, sessantesimo posto per loro nella classifica generale, primi tra gli equipaggi italiani e primi tra le auto a punti rigidi. Rispetto al 2022 diversi lavori sono stati fatti sulla loro macchina, ma il percorso quest'anno è più difficile, essendoci due nuove tappe Marathon. In gara ci sono 434 partecipanti, un record assoluto. I Totani sono tra i pochi che partecipano con una macchina di vecchia generazione.